Va in d'una strada, in dove ce se fa qualche gran scavo in della terra, e tu vederai che nisuno sa passà, si non sa faccia e si non guarda giù. Che consiste sta gran curiosità? Non è la terra giù come Gesù? Cosa spera la gente in quel guardà, che se scopri il burro del berzebù? Ma questo è il peggio, io non so capì, che si bene non c'è un cazzo da veder, in vedrische nell'occhi e stanno lì. Il mondo dunque è più coion de me che me ne sto su sta loggetta, e qui guardo in cielo le stelle e quel che c'è.